Se il nuovo del manovra che non fa la testa di un'altra parte, e il primo di un'altra parte, che ha citato la base, si fa una sparazione di due rame. E' un po' che... ...e' un altro manovra che qui, parte di vista di un... ...il passo semplicemente numero 6 della battuglia con la barriera nazionale e proprio questo lo sapevo di tutti gli altri giudici. Questa manovra, ovviamente per lui, è molto complessa perchè il nuovo determinato trafasi della battuglia va a prendere il riferimento dell'uno, che poi vedevano su quello che dovrà riconoscere. Quindi una parte della manovra viene fatta completamente a sensazione e quindi nessuno, con indicazioni dell'uno che vanno a correggere il quale trattore della battuglia. Stiamo avvicinando... Sì, qui vediamo il numero 10, il maggiore salvatore effettuare una serie di tonnò, effettuato sette rotazioni. Questo si fa capire la puntata che vi vogliamo di 339, la sua manovrabilità. E camminiamo ora alla separazione del cuore. La caratteristica del nostro cuore è che, a differenza di tutti gli altri cuori, si parte dal basso. Quindi c'è il primo incrocio dal basso e il secondo incrocio avviene in alto. Non si hanno riferimenti al suolo e tutta la manovra c'è il suolo è chiaro. La forma dell'equilibrio è una manovra di un altissimo basso tecnico. E' una manovra di un incrocio in alto. Adesso sentirà un grande abbraccio con un incrocio al fronte pubblico della formazione. in alto. Sono rinato. Adesso è partito proprio dall'affrata al tenore Francesco Crocco che ha dato un signore di quest'anno che è uscito. E' una manovra fra la sorella e la sorella E' una manovra E' una manovra e porta la casa E' una manovra e la sorella e il cuore per tutti gli metri. A me ne vediamo una manovra molto impegnativa da parte del solista la Snider è positiva con un lap negativo e sprendo due parole su questa manovra perchè il livello di sollecitazione è la manovra con più succesione del solista che il nostro solista è perfettuare che ha fatto Grazie a tutti.